Una cascata di fiori, di colori e di profumi invaderà il centro storico di Cremone il prossimo 28-29 aprile quando andrà di scena la sesta edizione delle invasioni botaniche presentata questa mattina a Spazio Comune. Cremone è pronta dunque a trasformarsi nuovamente in un giardino per una manifestazione che è cresciuta esponenzialmente negli anni grazie al successo di pubblico che ha riscontrato fin dalla prima edizione. Più di 120 di espositori che hanno confermato la loro partecipazione. L'edizione 2018 sarà dedicata alla rosa che diventerà il fil rouge che legherà tutti i florovivaisti e non solo. Le rose fioriranno su cuscini, sette, borse, gioielli, abiti e porcellane vintage. Tante le attività in programma per i due giorni della manifestazione e ampio spazio dedicato anche all'arte con esposizioni di disegni, mostre e installazioni. Insomma sembra chiaro che le invasioni botaniche sia l'appuntamento da segnare subito in agenda.